Svolta tecnica nel maxiprocesso Timpone Rosso teso a far luce su una serie di omicidi di indrangheta consumatisi nella Sibaritide nel Cosentino. Dopo la sentenza di secondo grado depositata di recente che confermava tra l'altro la condanna all'ergastolo al presunto boss di Rossano Nicola Acri, la Corte di Cassazione rimette in discussione la ricusazione chiesta dallo stesso Acri nei confronti di uno dei giudici all'atere che lo aveva già giudicato nel processo Arberia, ricusazione che la Corte d'Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile. Da qui il ricorso in Cassazione presentato dall'Avvocato Giuseppe De Marco, difensore di Nicola Acri, ora accolto dagli ermellini che hanno annullato l'ordinanza della Corte d'Appello disponendo il rinvio per nuovo esame dinanzi alla stessa Corte. A Catanzaro si dovrà quindi rivalutare nel merito l'istanza di ricusazione nei confronti del giudice che redasse la sentenza di appello con cui Nicola Acri, alias Occhi di Ghiaccio, venne condannato all'ergastolo per il duplice omicidio Cristaldi in Ucerito, consumatosi a Cassano il 6 gennaio del 1999. Quattro erano gli ergastoli inferti in appello nell'ambito del maxiprocesso Timpone Rosso, oltre a condanne dagli 8 ai 27 anni per gli altri imputati.